Ciao beautine, bentornate in questo nuovo video Allora oggi vi propongo questo smokey eyes blu viola Un look intenso ma colorato allo stesso tempo Che devo dire mi piace un sacco E quindi direi di non perderci in chiacchiere E partire subito con il tutorial Perché è piuttosto semplice come trucco Iniziamo ad applicare come mio solito Il correttore su tutta la palpebra L'ombretto color carne opaco Sotto l'arcata sopraccigliare nella piega dell'occhio Nella piega dell'occhio e all'attaccatura delle ciglia inferiori Applico un mix di questo ombretto grigio chiaro Miscelato ad un ombretto grigio Nella parte finale dell'occhio Nella piega dell'occhio e all'attaccatura delle ciglia inferiori Applico un ombretto grigio scuro Intensifico nuovamente la parte finale dell'occhio La piega dell'occhio e all'attaccatura delle ciglia inferiori Con una puntina di ombretto nero Su tre quarti della palpebra mobile applico una base Utilizzando una matita blu scura Nell'angolo iniziale dell'occhio applico l'ombretto lilla Nella restante palpebra mobile applico questo bellissimo ombretto blu carta da zucchero Nell'angolo iniziale dell'occhio e un pochino sull'ombretto lilla Applico questo illuminante bianco Realizzo la mia riga di eyeliner nera Nella rima interna inferiore dell'occhio applico questa matita viola E successivamente ci tampono al di sopra un ombretto viola Ma un viola acceso Termino poi il trucco occhio Andando ad applicare il mascara sia sulle ciglia superiori che inferiori dell'occhio Ed il tutorial è terminato Come avete visto è piuttosto semplice da realizzare Ma molto molto bello Intenso Ma con questo tocco di colore nella rima interna inferiore dell'occhio Con questo viola acceso Che va anche a illuminare il trucco Io vi lascio come al solito alle immagini finali Ovviamente non dimenticatevi di farmi sapere cosa ne pensate Di questo trucco occhi E noi ci rivediamo nel prossimo video Ciao beautine Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti